Quando cerchi una ricetta solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Ed ecco i favolosi ingredienti per creare la nostra frittata di ceci Allora 200 grammi di farina di ceci e 300 grammi di acqua Do tutto in grammi così tutte le bilance possono pesarle Sale a piacere, un cucchiaino di lievito istantaneo Olio extravergine di oliva anche qui a piacere Ne servirà un poco per stufare le cipolle e un po' per friggere la frittata Tre cipolle Sì, la quantità di cipolle potete deciderla voi Bionde, rosse, come le volete voi Potete usare anche gli asparagi che avrete ripassato un po' con l'aglio in padella Gli spinacini saltati in padella, le verdurine di campo saltate in padella Qualsiasi cosa vi piaccia, anche dei pomodorini Quello che avete in casa Viene buonissima anche rucola e pomodorini Quindi con ingredienti a fresco Con la cipolla è spettacolare Bene, brava Iniziamo subito Mettiamo 200 g di farina di ceci Un pizzico di sale E 300 g di acqua Con una frusta Mescoliamo bene tutto Ok, una volta disciolta tutta la farina nell'acqua Proteggiamo con un pochino di pellicola E lasciamo riposare in frigorifero tutta la notte E poi la prenderemo domani per pranzo E' già mattina e sto preparando la cipolla Le mie tre cipolle le ho lavate Sbucciate ovviamente E adesso le sto affettando Abbastanza sottilmente In maniera che poi da cotte Non risultino troppo presenti al palato All'interno della frittata Danno il sapore Ma senza dare la tipica consistenza Che magari a qualcuno può disturbare A me no Però A qualcuno, sì, tipo il mio figlio In una padella versiamo un po' d'olio Abbastanza Inseriamo la cipolla E mettiamo su un fuoco vivace Ok, quando comincia a soffriggere E diventa un po' più bianca e più morbida Aggiungete il sale Rimettate bene Aggiungete Aggiungete 100 ml di acqua E lasciate stufare Aggiungete l'acqua Apporterà una maggiore cremosità Alla vostra cipolla Copriamo Arrivati a questo punto Quando la cipolla ha perso Più di metà del suo volume È pronta Non deve diventare troppo incastagnata Stegniamo la fiamma Lasciamo due minuti E dopodiché io scolerò tutto l'olio Vedete tutto questo olio Lo toglierò Lo metterò via E lo userò per friggere la frittata Perché è aromatizzato Ma nello stesso tempo È troppo unta questa cipollina Quindi andiamo subito a fare questo lavoro In una padella Versiamo un po' di olio Per friggere la frittata Non tutto perché è troppo Voilà Bene E il resto invece Lo faccio scolare in un pentolino Per poi metterlo tra l'olio esausto Presa la pastella dal frigorifero In un bicchiere vuoto Con un cucchiaino d'acqua Verso Il cucchiaino di lievito Faccio questo passaggio Per facilitare il discioglimento Del lievito In modo che non rimanga grumi All'interno della frittatina Quindi lo verso immediatamente E con la frusta Lo incorporo Nel frattempo accendo la fiamma Sotto l'olio In modo che si riscaldi ben bene E adesso verso la mia pastella All'interno della padella La stendo per bene E verso anche sopra la cipolla Ora questa cipolla Io la metto un po' ovunque di solito Siccome oggi però Enzo vuole anche lui La frittata di ceci E lui non ama la cipolla Ve ne lascio un pezzettino senza Ma fate conto che di solito Io la distribuisco su tutta La frittatina Ma così vi do l'idea Se i vostri figli sono un po' come il mio Per fare lo stesso pranzo per tutti Tanto è buonissima anche senza cipolla Si potrebbe unire la cipolla direttamente dentro la pastella Io preferisco di no Perché preferisco far fare il fondo liscio Alla frittata Ok Copriamola e facciamola andare un po' a fuoco medio A questo punto con una paletta Assicuriamoci perfetto Che la frittata non sia attaccata al fondo Mettiamo al minimo Quindi Solleviamo un margine E questo è Come un palettone per pizza Che faccio questo lavoro Mi viene comodissimo Prendo la frittata Voilà E la capovolgo E la lascio andare per qualche altro minuto Vedete che proprio vuole una frittata Quando la frittata comincerà a muoversi liberamente in padella Vorrei dire che è pronta Lascio andare altri 3 secondi Spengo la fiamma E capovolgo la frittata nel piatto Permesso Et voilà La nostra frittata di cipolla è pronta Ed è anche facile intuire Dove è la parte dove non c'è la cipolla Per questo vedete lo scaravoltata Perché se no Vi avrei detto di metterla dall'altra parte Che è più bella Però Tranquilli E' buonissima Accompagnatela Una buona insalata di pomodoro Un'insalata verde E vedrete che farete un pranzo Da re Vi lasciamo alle foto E assaggiate la nostra frittata Completamente vegana E' buonissima Veramente Non sentirete la differenza E non rimpiangerete la classica frittata Un cuore di... Buonissima Seria Buonissima Buonissima